Supera i 17 milioni di euro il denaro scoperto a transitare illegalmente per gli aeroporti veneziani Marco Polo a Tessera, Inicelli a Lido e per le banchine portuali di Marghera e Fusina. Nel 2023 la Guardia di Finanza ha effettuato oltre 1.500 controlli, multando passeggeri per più di 340 mila euro. Il fenomeno sta aumentando nonostante i controlli e nonostante ormai sia penso abbastanza saputo il fatto che esistono anche dei cani antivaluta. Nel 2023 abbiamo verbalizzato come dogana 742 casi, quindi una media di due sequestri o oblazioni. Tra i sequestri più significativi 200 mila euro in assegna ad un etiope proveniente da Dubai e 150 mila euro in contanti ad un italiano diretto a Hong Kong per acquistare diamanti. Venezia è una piazza molto importante perché è una piazza in cui c'è turismo e c'è anche turismo molte volte di lusso e quindi tante volte ci sono imprenditori interessati anche a investire in attività economiche nel veneziano. Per esempio in un caso c'era un'importante provvista economica contrabbandata possiamo dire a questo punto in Italia per l'acquisto di un hotel dalle parti di Montegrotto. La coppia era una coppia russa. Probabilmente meno noti dei cani antidroga esistono anche cani opportunamente addestrati a fiutare il denaro. Oltre al loro supporto nell'individuare chi nasconde qualcosa, nei controlli vale anche e soprattutto l'occhio di chi è allenato a riconoscere determinati comportamenti. Il fare circospetto, il vedere se si guardano attorno prima di ritirare il bagaglio, se aspettano un momento particolare per uscire dalle porte una volta ritirata la propria valigia, anche una certa agitazione. Sono tutti dei parametri che ci portano a nutrire qualche sospetto e qualche dubbio sul passeggero. Grazie. 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 Grazie.